E' una vera impennata quella dei contagi da covid in Abruzzo. E' un segnale in crescita e continuerà a essere in crescita anche nel periodo natalizio e subito dopo, quindi ci dobbiamo aspettare un'ulteriore situazione di emergenza. La variante Delta è quella che preoccupa di più per ora, ma la provincia di Chieti è quella dove si sta diffondendo con più velocità la variante Omicron. Si parla ormai del 15% dei tamponi positivi. I dati attuali sono ancora legati prevalentemente al colpo di cosa, diciamo così, della variante Delta. Però Omicron è già al 15% circa e, diciamo come in tutta l'Europa, si stima che soppianterà nel breve Delta. Non necessariamente più virulenta di Delta, quindi con forme più gravi, ma molto più contagiosa. L'ospedale Santissima Annunziata di Chieti è preparato però ad affrontare qualsiasi evoluzione di sovraccarico del sistema sanitario. Abbiamo già riconvertito la pneumologia in un reparto Covid, è già ai due terzi occupata. Nei prossimi giorni verosimilmente riconvertiremo la clinica geriatria, quindi la terza medicina, in un reparto Covid. È pianificata l'apertura di Atessa come ospedale Covid a bassa intensità. E poi se la situazione dovesse ulteriormente peggiorare, ci sono scenari anche di riposizionamento di altri tipi di reparti, in reparti Covid. Qual è la tipologia dei pazienti ricoverati? Sì, la tipologia dei pazienti ricoverati per 9 casi su 10 sono persone non vaccinate. Abbiamo ragazzi anche giovani, abbiamo un 39enne ricoverato ad esempio, quindi persone che o per scelta o per necessità non hanno fatto il ciclo vaccinale e hanno quindi contratto l'infezione. Uno su 10 soltanto sono persone vaccinate anche molto anziane. Abbiamo un 96enne, quindi persone che avevano fatto il vaccino molti mesi fa e sono adesso quindi con minore copertura. Ma sono persone, ad esempio il 96enne, che se non fosse stato vaccinato avrebbe avuto un esito sfavorevole sicuramente.